Salve e benvenuti in questo nuovo video. Parleremo oggi di olio 5W30 e olio 5W40. Bene, benvenuti. Allora, parliamo oggi delle differenze tra questi che sono sicuramente le due gradazioni di olio più conosciute, più utilizzate nel mercato. Cercherò di spiegarvi il più precisamente possibile tutto quello che c'è da sapere sulla differenza tra questi due lubrificanti, in modo da poter scegliere quello più adatto a voi. Cercherò di spiegarvi tutti questi numerini che troviamo sull'etichetta. Iniziamo con il dire che quando troviamo un numero seguito da una W e poi un altro numero, vuol dire che stiamo parlando di un olio multigrado, cioè che va bene sia alle basse che alle alte temperature. Il primo numerino indica la capacità del lubrificante di rimanere fluido alle basse temperature, il secondo numero invece indica la capacità di rimanere viscoso alle alte temperature. In questo caso abbiamo un 5W. Questo vuol dire che questo tipo di olio, entrambi i tipi di olio perché sono tutti e due 5W, hanno la capacità di rimanere fluidi fino a meno 30 gradi. Questo permette degli avviamenti anche a basse temperature, senza che gli organi interni del motore ne risentano. Il secondo numerino indica, come abbiamo detto, la capacità di rimanere viscoso alle alte temperature. In questo caso questi due numeri indicano la temperatura esterna, quindi non le temperature interne di esercizio che sono sicuramente molto più alte. In questo modo possiamo dire che il 5W30 è più adatto per i mesi invernali e per i paesi più freddi, mentre il 5W40 è più adatto per i mesi estivi o per i paesi più caldi. Diciamo che in realtà la differenza tra questi due è veramente minima, infatti come abbiamo visto la fluidità alle basse temperature è la stessa e alle alte temperature la differenza di viscosità è veramente minima. Ecco perché spesso e volentieri possono essere tranquillamente intercambiati, anche se ci sono alcune case costruttrici che richiedono l'utilizzo di uno e uno solo di questi due. Le differenze non finiscono qua. Diciamo che più sinteticamente possiamo dire che il 5W30 è un olio più fine, mentre il 5W40 è un olio più grosso. Questo che vuol dire? Se prendiamo per esempio il 5W40, essendo meno fluido e quindi più viscoso, permette di chiudere meglio le luci all'interno del nostro motore in modo da prevenire perdite nel tempo. Di contro però, essendo più grosso, diciamo così, offre maggiore resistenza all'attrito e quindi è molto meglio utilizzarlo per usi specifici tipo utilizzo in città o alle alte velocità. Il 5W30 invece è un olio sicuramente che offre meno attrito alle parti interni del motore e quindi è indicato per chi ha una guida un po' più fluida e soprattutto aiuta anche a risparmiare carburante perché proprio questa sua fluidità permette agli organi interni di girare in modo più fluido. Di contro, essendo più fine, ha minore capacità di chiudere quelle luci di cui abbiamo parlato prima e quindi con il tempo si potrebbero anche verificare delle perdite con l'utilizzo di questo lubrificante. Diciamo che in generale nelle auto in cui il chilometraggio è significativo, quindi dopo i 150.000 chilometri, è più indicato sicuramente utilizzare il 5W40. I numerini che però possiamo trovare sulle etichette dei nostri lubrificanti non finiscono qui. Quello che troviamo di solito davanti è sempre seguito dalla sigla SAE. SAE vuol dire Society Automotive Engineering. Ma troviamo anche altre due sigle, una è API e una ACEA. Vediamo che cosa indicano e perché si differiscono l'una dall'altra. Allora, quella API troviamo sempre una lettera seguita da un numero. Le lettere che troviamo sono S e C. S indica per benzina, C indica per gasolio. La seconda lettera invece più è alta, più indica una qualità maggiore del lubrificante. La sigla invece ACEA è composta da quattro lettere A, B, C ed E. A sta per benzina, B sta per gasolio, C sta per motori con post trattamento ed E invece sta per motori diesel di trazione solitamente, quindi quelli con un lavoro più pesante. Il numerino successivo, anche in questo caso, indica la qualità del lubrificante. Più è alto, più il lubrificante, come abbiamo detto, è di qualità. Le case costruttrici chiedono ai produttori di lubrificanti delle specifiche particolari in base ai materiali con cui hanno costruito i loro motori. Ecco perché è di vitale importanza scegliere il giusto olio come indicato nel libretto di uso e manutenzione delle nostre auto. Per quanto riguarda le sigle che vi ho detto prima, quindi la scelta di S e benzina, per esempio C gasolio, diciamo che con l'arrivo degli oli totalmente sintetici anche questa potrebbe essere in qualche modo bypassata. Come per esempio in questo troviamo scritto bene evidente sulla etichetta che questo olio va bene sia per la benzina, sia per il gasolio, sia per le auto ibride. Per cui diciamo che la maggior parte degli oli oggi, dei lubrificanti, se non è specificato, vanno bene per tutte le motorizzazioni. Poi possiamo trovare in commercio anche quelle che vanno bene, che sono segnate solo per il diesel, sono segnate solo per la benzina o solo per il gas o appositamente studiati per le auto ibride. Per cui poi lì la scelta sta a voi. Diciamo che un buon olio di buona marca permette di essere utilizzato su tutte le motorizzazioni. L'importante è che abbia le sigle giuste come da libretto di uso e manutenzione delle nostre auto. Normalmente questi due oli potrebbero anche essere intercambiati, per esempio per usarne il 5,30 in inverno e il 5,40 in estate, ma potrebbe anche essere indicato che vanno utilizzati e possono essere tranquillamente utilizzati o uno o l'altro per tutta la stagione, per tutte le stagioni. In fondo abbiamo visto che la differenza tra i due è veramente minima per quanto riguarda le temperature. È importante ricordarsi di controllare periodicamente il livello dell'olio motore, ho fatto un video con un piccolo tutorial per chi fosse interessato e soprattutto di sostituire il lubrificante, di fare il tagliando quindi nelle tempistiche, nei chilometraggi che la casa costruttrice indica. Sulle auto più datate solitamente il range era minore, quindi parliamo magari di 20.000 chilometri o un anno, nelle macchine più recenti diciamo che questo range si è praticamente raddoppiato e si parla solitamente almeno di 40.000 chilometri e ogni due anni. Questi oli sono appositamente studiati per avere una vita più lunga, però questo non vuol dire che poi possiamo allungare all'infinito il periodo per il tagliando. Quindi mi raccomando, a seconda dell'età della vostra auto, ma trovate tutto scritto sui libretti di uso e manutenzione delle vostre auto, seguite le tempistiche che vi vengono indicate. Con questo video direi che è tutto, se avete delle domande da farmi o volete che faccia degli approfondimenti o chiedermi qualcosa di più particolare, fatemelo tranquillamente nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina. Se vi va, seguitemi anche sui social, sia su Facebook che su Instagram che su TikTok. Penso di aver detto tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, a buona Pasqua!